32 chilometri e di paesaggi delle colline bresciane, un percorso decisamente impegnativo, quello della terza edizione della Ventimiglia, la gara podistica organizzata da AICS, inserita nel calendario FIDAL, in programma questo 27 maggio. Si, si tratta di un'iniziativa importante che va a valorizzare il centro storico, che va a valorizzare chiaramente quello che è il volontariato, perché è un grazie di essere dato all'AICS per l'iniziativa che va a proporre anche quest'anno, ma un grazie importante ai nostri concittadini che potranno non soltanto divertirsi e stare insieme, vedere delle bellezze storiche e artistiche che sono quelle della nostra città, vedere e visitare il nostro castello, ma soprattutto stare insieme, trascorre una giornata diversa dal solito che fa bene alla salute, ma fa bene chiaramente anche allo spirito. Dal castello di Brescia al percorso si snoderà per Monpiano, San Giuseppe, Muratello, il Monte Maddalena ed il San Gottardo, una gara decisamente faticosa aperta anche agli atleti non competitivi, una vera e propria festa con punti di ristoro previsti ogni 5 chilometri sul percorso, confermata anche la mini 20 miglia per i ragazzi dai 5 ai 14 anni. Noi promuoviamo questa manifestazione con un grosso impegno di tipo organizzativo, ma anche economico, e vorremmo che naturalmente tutti i budisti aderessero a questa nostra iniziativa, che sappiamo bene nelle due edizioni ha portato un certo numero a un certo livello agonistico. Partenza alle ore 8.45 di domenica dal castello, le 9.15 per la versione mini, ben 325 partecipanti la scorsa edizione, l'evento visto il successo guarda ad allargarsi su tutto il territorio nazionale.